Ho deciso di partecipare all'intensivo di consapevolezza sciamanico di Love Shaman Way perché mi sono affidato del consiglio di Prem Antonino, che già conoscevo, e perché le voci del programma che ho letto mi hanno interessato fin da subito e ho trovato degli esercizi che ancora non avevo svolto e li ho ritenuti validi per la mia crescita personale. Questa esperienza mi è piaciuta perché è un'esperienza che ti permette di separare quello che sei da quello che credi di essere. Quindi separa la tua vera identità dai tuoi bisogni e da tutti quei comandi interiori che spesso ci vincolano a comportarci in un certo modo piuttosto che in un altro. Ti riconnette con la tua parte più profonda e quindi riesci a prendere delle decisioni più sagge in linea con quello che sei realmente. Mi sento di consigliare a chiunque questo tipo di esperienza perché la vita quotidiana ti porta spesso all'interno di un caos che non siamo in grado di gestire. Questo intensivo ti permette di vivere per qualche giorno la vita in un modo completamente diverso come sarebbe da fare in realtà per tutta la nostra vita e ti fa capire un modo nuovo di rapportarti al mondo, alle cose, alle persone e quindi anche alla vita e a te stesso.